Buongiorno, un'informazione. Cosa succede se chiudo l'acqua all'inquilino moroso con sfratto in corso approvato? Può essere una soluzione per liberarmi la casa visto che ancora non lascia libero l'immobile? Grazie anticipatamente e buona giornata. Grazie mille a lei per la domanda che riguarda un caso davvero interessante perché se non ci fosse uno sfratto convalidato allora la risposta come sappiamo sarebbe assolutamente no e se lei lo facesse l'inquilino potrebbe portarla davanti a un giudice con l'accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Articolo 392 del codice penale. Il legislatore ha infatti previsto questo articolo proprio per evitare che i cittadini siano tentati di farsi giustizia da soli e nel caso specifico del contratto di locazione per provare a rientrare in possesso del proprio immobile senza avviare una procedura di sfratto come invece è previsto dalla legge. Nel suo caso però visto che la procedura di sfratto non soltanto è stata avviata ma vi è anche la convalida dello sfratto stesso se l'inquilino non ha presentato alcuna opposizione il rapporto in essere tra di voi di fatto non esiste più quindi lei non ha più alcun dovere nei suoi confronti nei confronti dell'inquilino e in teoria sarebbe suo diritto interrompere l'erogazione dell'acqua. Detto questo però se lo sfratto effettivo è previsto a breve si consiglia sempre di aspettare a prendere questo tipo di decisioni soprattutto perché l'esperienza insegna che fino al momento in cui l'inquilino non libera effettivamente l'immobile è sempre possibile che vi sia un rinvio e se così dovesse accadere se lei ha già interrotto le utenze potrebbe essere accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ecco un caso secondo me molto interessante se vi va fatemi sapere cosa ne pensate di questa norma se è giusta o se andrebbe cambiata. Ecco io sono sempre dell'idea che se vogliamo che ci siano sul mercato più case in affitto disponibili a prezzi più bassi dobbiamo soprattutto tutelare i proprietari onesti il che vuol dire tra le altre cose sfratti veloci in caso di gravi inadempienze contrattuali. Ma questo è solo quello che penso io se vi va fatemi sapere cosa ne pensate voi come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi alla prossima